Sì, certo. Anche tu puoi avere la tua soddisfazione, gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le soddisfazioni non mancheranno. Le chiederemo come si stanno preparando e poi li vedremo in campo domenica, data in cui vi aspettiamo veramente numerosi. Ma andiamo a sentire allenatori e ragazzi come stanno preparando la partita. Siamo qui con Alessandro Angeloni, capo allenatore dei Ranocchi Angels, a cui facciamo subito la domanda chiave, e cioè prima partita di playoff in casa, come si prepara una partita di playoff? Allora, è già da un po' che pensiamo a questa partita, cioè dall'ultima nella stagione regolare, in cui abbiamo conquistato il primo posto nel girone, quindi sapevamo di avere una settimana in più per noi preziosissima per recuperare gli infortunati e preparare bene questa partita. Come si sa, la partita di playoff o si vince o si va a casa, quindi tutto ci giochiamo in questa partita e ci prepariamo sia in attacco che in difesa, sia nel tenere alto il livello atletico dei giocatori, che quello tecnico, ma anche e soprattutto nello scouting della difesa e dell'attacco avversario. Abbiamo visto i filmati, diciamo che li conosciamo già, dei loro giocatori li conosciamo dal passato, ma per questa, soprattutto nel CIF9, ogni anno sono squadre che cambiano tanto, anche noi siamo cambiati tanto dall'anno scorso, e quindi studiandoci filmati e provando sul campo prepariamo al meglio questa partita. Una domanda invece sul campo, quanto conta il fattore campo, quindi giocare in casa e avere il proprio pubblico in una partita del genere? Conta, ma può essere anche un'arma a doppio taglio, perché il fatto di giocare in casa, sì, si è più rilassati, si è meno stanchi per l'eventuale viaggio, però diciamo che il viaggio non sempre è un motivo di calo di prestazione, anzi, molte volte il viaggio è il momento per riunire la squadra, caricarsi, concentrarsi insieme, quindi è vero, siamo a casa, comodi, ci alziamo più tardi, mangiamo con calma, arriviamo al campo, però alla fine a livello di concentrazione non è tutta questa differenza. E poi il pubblico, il pubblico non è così, diciamo, efficace avere il pubblico dalla propria, perché il pubblico, nel pubblico dell'americano, soprattutto di Chief 9, diciamo non è uno stadio pieno che urla contro la squadra avversaria, quindi diciamo che siamo contenti, molto contenti di giocare in casa, conosciamo il nostro terreno e siamo ultra felici, però alla fine il vantaggio può essere un'illusione. Invece una domanda più proprio da capo allenatore, quest'anno una grande squadra, 5 vittorie, una sconfitta, ma tanti nuovi innesti, nuovi giovani, cosa ne pensi da allenatore della squadra dei ragazzi di quest'anno? Guarda, sinceramente siamo partiti con molti dubbi, eravamo pochi, c'erano dei giocatori all'ultimo anno che hanno spinto per fare questa stagione e alla fine abbiamo deciso di provarci perché i giocatori avevano troppa voglia, cioè alla fine noi facciamo questo, tra virgolette, lavoro, che non è un lavoro, chiaramente una passione, lo facciamo per i ragazzi, sono loro che mi trasmettono la gioia di venire qui. Quando la squadra è annoiata, spompa, non c'è intensità, l'allenatore è un lavoro, diventa una fatica e non è divertente. Invece quest'anno i ragazzi erano così carichi che era impossibile dirgli di no e quindi siamo andati avanti. Poi questo entusiasmo, chiaramente che è contagioso in questo sport perché è tutto basato sull'amicizia, sulla squadra, sulla fratellanza, sull'entusiasmo, ha contagiato anche chi aveva smesso, chi si era allontanato e piano piano i ragazzi si sono riavvicinati. Alla fine abbiamo cominciato che non eravamo in 20 e finiamo che siamo in 30 con gli infortunati. Quindi io sono felicissimo di come è andata già fino adesso questa stagione. E allora ti faccio una domanda indiscreta, cosa daresti per essere in campo anche tu domenica? Guarda, purtroppo fisicamente gli anni ci fanno sentire. Molte volte avrei tanta voglia di essere con loro, poi mi rendo conto degli sforzi che devono fare e mi dico ma dove cavolo vai? Diciamo che per carità forse qualche ruolo, qualche azione potrei farla ma sarei solo di impaggio. Questi sono ragazzi che spingono, che corrono, che si colpiscono e a una certa età diventa faticoso poi e recuperare è anche impossibile. Diciamo che si sta bene anche dall'altra parte della barricata. E l'ultima cosa che ti chiedo è un appello per far venire più gente possibile a vedere domenica in via Respighi al Camposcuola alle 16 la partita contro i pretoriani. Capisco che molti saranno invogliati ad andare al mare ma per il mare c'è tutta la stagione e questa è sicuramente l'ultima partita che faremo in casa quest'anno perché comunque anche se dovessimo vincere andremo a giocare fuori e la finale sarà in Reggio Emilia quindi è l'ultima partita degli Angels, vogliamo finire le partite in casa col botto magari con una bella vittoria o comunque con una partita in cui daremo tutto e quindi ci sarà tanto spettacolo, ci saranno il dopo partita, organizzeremo tante cose quindi venite per queste due ore e mezza a vedere questa partita e ci divertiremo insieme. Grazie Ale. Eccoci qui con Marco Gattei, allenatore dell'attacco ricevitori e anche come vedete vestito per giocare. Domanda anche a te, diritto iniziale? Buonasera a tutti. Buonasera, prima partita di playoff, come si prepara una partita come quella che giocheremo domenica contro i pretoriani? Ormai la preparazione fisica a questo punto della stagione è ormai fatta, la preparazione soprattutto mentale di concentrazione, di attenzione agli errori e di gestire l'emozione che è inevitabile perché man mano che si procede nei playoff le squadre diventano sempre più forti e le partite sempre più difficili e sempre più importanti quindi la testa va tenuta sotto controllo. Abbiamo visto che sono tornati tanti vecchi amici ma anche tante vecchie glorie. Cosa ci puoi dire di questa finale di stagione, di questa squadra adesso? È un'occasione veramente molto particolare, ci sono tantissime cose, è molto bello per me che sono all'ultimo anno di possibile tesseramento di finire con le stesse persone con cui ho cominciato nel 1992. È una cosa veramente molto molto bella, da molta carica e particolare anche poter dimostrare a dei ragazzi che ho sempre solo allenato, che non raccontavo solo balle ma erano cose importanti che so fare anch'io. È un'emozione veramente molto particolare e anche molto educativa molto bello, è un momento molto molto bello emotivamente. Quindi Marco anche tu, ultima partita e ultima partita in casa, quindi fai anche un appello col cuore a chi verrà a vedere questa partita domenica. Beh è chiaro abbiamo bisogno del supporto non solo della nostra mente ma anche di tutte le emozioni, tutta la carica, quindi avere gente che si sostiene in questo momento di playoff, in questa fase della stagione, è veramente una carica, è un serbatoio di benzina veramente importante per cui sarebbe molto bello che domenica ci fosse tanta gente a dire Forza Angels e a darci tutto il sostegno e l'energia di cui abbiamo bisogno per questa che si prospetta una partita veramente difficile, è un avversario molto ben preparato che conosciamo bene però tosto. Grazie Marco e buon allenamento allora. Grazie. Siamo qua con uno delle colonie portanti della difesa della Nokia Angels, Filippo Permaria che pensate non solo è l'ultimo anno ma sarà anche lui all'ultima partita in casa domenica e Filo, emozioni e come avete preparato questa partita? Le emozioni sono a mille anche perché oltre a essere la mia ultima partita in casa potrebbe essere anche l'ultima partita della mia carriera se dovessimo perdere la partita la stiamo preparando molto bene, abbiamo studiato i nostri avversari, i Pretoriani Roma abbiamo buttato giù una difesa fatta apposta per il loro attacco e quindi ci stiamo allenando bene e tanti, quindi il morale è molto alto e siamo fiduciosi. Filo, i Pretoriani Roma hanno tanti vecchi nomi che hai affrontato nel corso degli anni Ranimek c'è di Giorgio, poi comunque tanti altri giocatori abbastanza forti. Come ha preparato la difesa degli Angels questa partita e come si sta preparando anche al gioco sia di corse che aereo dei Pretoriani? Questo non te lo posso dire ancora, ti posso dire solo che abbiamo preparato dei belli schemi per contenere di Giorgio che rimane l'arma numero uno dei Pretoriani, anche l'ultima partita ha fatto un sacco di cose belle, tante corse, calci, è un ottimo giocatore ma abbiamo studiato delle buone contromisure e speriamo che funzionino. E quest'anno con la tua passione hai riportato tantissime persone a giocare quindi sono tanti amici, tante vecchie glorie in campo come ci si sente a solcare il campo quest'ultimo anno con tanti amici? Sicuramente sto benissimo ma non è grazie a me che sono venuti anzi, probabilmente grazie al lavoro degli allenatori che stanno facendo molto bene hanno riportato entusiasmo alla gente di Pesaro per giocare a football agli allenamenti si diverte, si fatica come non si faceva da qualche anno quindi secondo me il merito è prima degli allenatori che hanno creduto in questa squadra e in questi ragazzi e poi il merito va anche ai ragazzi che comunque hanno voglia di giocare e hanno voglia magari anche di giocare con un vecchione come me che è l'ultimo anno. E ultima domanda che ti faccio, anzi per una richiesta facciamo un appello a tutte le persone per venirci a vedere domenica alle 16 al campo scuola. Certo, l'appello è alle 16 al campo scuola per vedere un quarto di finale per vedere forse la mia ultima partita, sicuramente in casa sarà l'ultima e per vedere questi ragazzi che comunque si stanno mettendo tutto da novembre e non vogliamo che finisca domenica. Grazie Filo, buon allenamento. Siamo qui con Gerardo Frazzetto, detto Gerry, che si trova di fronte domenica ai pretoriani che due anni fa a campi invertiti aveva già visto. Come la vivi in realtà questa sfida contro Roma e come la state preparando? Beh, allora io non vedo l'ora di giocare perché comunque i pretoriani li conosciamo bene conosciamo moltissimi di questi atleti di questa squadra e ci stiamo allenando molto forte e siamo molto preparati onestamente. E Gerry, infatti a proposito di preparazione abbiamo visto che i pretoriani corrono anche ma lanciano anche abbastanza tu da defensive back, quindi copertura sui lanci come stai vivendo questa preparazione anche sui lanci contro Roma? Beh, allora non ci siamo mai smessi di allenare anzi, soprattutto abbiamo visto che sulle corse al momento non voglio portarsi figa, siamo andati abbastanza bene e quindi stiamo allenando molto il reparto dei DB e al momento direi che siamo una spanna sopra. Addirittura, parole grosse ma mi piace la convinzione e quindi convinci anche il pubblico domenica a venire a vedere la partita. Vabbè, per concludere una domenica di estate magnifica vai al mare dalle 10 alle 3 di pomeriggio e poi viene a vedere una partita di football e non mancherà sicuramente la birra, eccetera, eccetera. Quindi ci vedremo domenica e anche nello spettacolo non mancherà. Buon allenamento Gerry, grazie. E dal bellissimo Campo Caprilino dove vi ricordiamo è presente anche la scuola junior di flag football il martedì e il venerdì dalle 19 alle 20 e 30 vi salutiamo e vi invitiamo ancora domenica in via Respighi al Campo Scuola alle 16 per vedere questa prima partita che sicuramente speriamo non sarà l'ultima di playoff contro i pretoriani Roma tutti a tifare la Nocchi Angels, mi raccomando come diceva Gerry, una bella giornata di mare poi torniamo su, veniamo a vedere gli Angel ci divertiamo, grande spettacolo si beve, si festeggia e quindi non mi resta che rilanciare l'invito a vederci domenica per la Nocchi Angels Pesaro contro i pretoriani Roma al Campo Scuola di via Respighi Grazie Ciao